Allora, prima mi scuso per il mio italiano perché sempre dico che lo parlo in spagnolo, è vero, e in questo momento Bruno dice no no, eccellente il tuo italiano, no, non è vero, ma almeno si capisce, aspetto, perché l'italiano e lo spagnolo, lo diceva ieri, sono alla fine la stessa lingua, no, latino malparlato. Ok, detto questo, direi che sono molto contento di essere qui con Bruno perché Bruno ha tradotto tantissimi dei miei libri, è un amico vero e sul tutto è la mia voce, per me è un grande amico, ma la mia voce in italiano e questo è molto importante, si dimentica spesso che che l'importanza essenziale della traduzione, no, cioè quando qualcuno legge i miei libri, legge i miei libri è vero, ma legge i libri da Bruno, la voce anche di Bruno, no, allora grazie davvero, questo è molto importante, tutto il mondo lo sa questo, ma non si dice, non si dice molto, un buon traduttore può migliorare i libri, come fa Bruno, e un cattivo traduttore può distruggere veramente un libro, questo lo sappiamo benissimo, io ho avuto questa sorte, no, questa fortuna. Allora, sì, questo cambia, è vero, Bruno non soltanto traduce i miei libri, ma conosce molto bene tutto quello che io ho scritto, a volte penso che lo conosce meglio da me stesso, ma è così, cioè c'è un cambiamento, è vero, in questa trilogia e questo è stato per me molto importante, cioè a un certo punto io ho scritto un libro che si chiama Il sovrano delle ombre, che è un libro molto importante per me, era un libro in cui io parlava della mia famiglia, che era una famiglia franchista, l'eroe della mia famiglia era un giovane farangista, che è morto alla fine della guerra civile, nella battaglia dell'Ebro, nella Terra Alta, dove succedono tutti questi romanzi, questo è stato un po' un'ossessione per me, tutti in Spagna e tutti in Italia, tutto il mondo ha queste storie di famiglie, nel mio caso era questo, la mia famiglia era una famiglia di destra, che ha appoggiato almeno all'inizio durante la guerra il franchismo, questo era diciamo l'eroe della famiglia, l'eroe della mia mamma, che era una piccola bambina quando la guerra, e questo era un ragazzo di destra, cioè un farangista, che è morto in combattito, combattendo nella battaglia dell'Ebro. Allora, questo libro è un libro molto importante, che ho tardato tantissimi anni in scriverlo, alla fine l'ho scritto e quando ho finito questo libro ho avuto questa impressione, ho avuto questa sensazione molto viva, molto evidente, ho avuto questa certezza, ho sentito che quel libro era la fine di un percorso che aveva iniziato tanti anni fa ai Soldati di Salamina, cioè una serie di libri che avevano delle cose in comune, cioè la storia era molto presente, c'era quello che si chiama oggi autofiction e che quando ho scritto I Soldati di Salamina non esisteva questa parola, c'erano le mescolanze di genere, c'erano una serie di cose che questi libri avevano in comune. E quando ho scritto questo libro ho detto, questa è la fine di qualcosa, di questo percorso. Evidentemente poteva continuare per questo, fare dei libri simili, perché io sapeva come fare questi libri, ma io ho sentito, ho avuto la certezza che correva il peggiore pericolo che può correre uno scrittore a un certo punto della sua carriera, è il pericolo di, soprattutto se le cose hanno andato bene per lui, è il pericolo di ripetersi, di diventare un imitatore di se stesso. In questo punto un scrittore muore come scrittore, è morto come scrittore, perché non può dire delle cose nuove. E questo è la morte di uno scrittore, io non volevo morire come scrittore. Evidentemente, quando dico queste cose, che è la verità, ci sono giornalisti che mi rimandano, ma questi libri ti hanno fatto conoscere tutto il mondo, questi libri ti hanno fatto un successo per te. Ma sì, è vero, era un rischio fare un'altra cosa, è vero, ma uno scrittore, tu lo sai molto bene, uno scrittore che non corre rischi non è un vero scrittore, è un'altra cosa, non è un vero scrittore. Uno scrittore, io come persona non mi sento molto, io sono ragionabilmente godardo, diciamo, come persona, ma come scrittore non posso esserlo. Uno scrittore deve giocarsi tutto in ogni riga, in ogni libro, in ogni pagina. E allora questi libri, questi tre, questa trilogia esce di una voglia di reinventarmi come scrittore, di trovare in me stesso uno scrittore diverso, di ribelarmi contro me stesso come scrittore, per dire delle cose, per trovare temi nuovi, per dire delle cose nuove. trovare in me stesso uno scrittore nuovo, questo è quello che io vorrei trovare tutti gli scrittori che ho dentro di me, questa sarebbe la mia ambizione, e tutte le persone che ho dentro di me. Montaigne ha detto una cosa tanti anni fa, Montaigne, Michel de Montaigne, uno dei centri della nostra, no, della modernità, ha detto c'è tanta differenza fra me e me stesso come fra me e gli altri. Cioè non siamo uno, siamo una moltitudine, come direbbe Pessoa, no? L'identità è una fizione, infatti, siamo molti. E quello che io volevo fare è il risultato, questo d'una parte, d'altra parte devo dire che uno scrittore può avere questa volontà di reinventarsi e non trovare la forma. Io devo dire che nel mio, io ho voluto fare questo, non so se ho riuscito, ma è vero che delle cose personali e delle cose storiche, soprattutto la crisi catalana, che è stata molto dura per me, che è successo in quel, che è accaduto in quel momento esatto in cui io aveva bisogno di reinventarmi, che è stata una tragedia per il mio paese e per me personalmente. Per me personalmente è stata una catastrofe, ma letterariamente è stata fantastica, è stata meravigliosa, perché questa è una paradosa terribile. Le cose buone per una persona sono, cioè le cose cattive per una persona sono buone per uno scrittore. Questa è una tragedia, è così, cioè in un mondo, gli scrittori con che cosa lavoriamo? Lavoriamo con l'orrore, con la guerra, con le crisi, con l'oscurità, veramente. Cioè in un mondo felice non esisterebbero scrittori. Poeti forse sì, pochissimi e cattivissimi, ma romanzieri senza dubbio no, perché i romanzieri lavoriamo con questo, con le crisi. Per questo i migliori di noi altri siamo ciacali. Lavoriamo con queste cose, questo è il nostro materiale. I migliori dei scrittori sono come volevano essere gli alchimisti, gli alchimisti volevano trasformare il ferro in oro. Noi, i migliori degli scrittori trasformano la crisi, il dolore, la violenza, tutte le cose cattive in bellezza e in senso. E per questo io penso o non penso, sono assolutamente sicuro contro quello che pensa la nostra epoca, che la letteratura non è utile, è molto utile. È utilissima, ma se non vuole essere utile, questa è la paradosso essenziale, perché se vuole essere utile diventa propaganda o pedagogia e non è più utile. Allora, è quello che ho voluto fare. È vero che io sono chi so, tu sei chi è, cioè non possiamo cambiare assolutamente radicalmente. Io amo assolutamente, enormemente questi artisti, sono i miei modelli, veramente, che sono sempre gli stessi e sempre diversi. Penso a Borges, per esempio, che è ancora il mio maestro. Sempre lo stesso, riconosci ogni pagina, ogni riga, ogni che ha scritto e allo stesso tempo sempre in permanente evoluzione. Sempre sta cambiando, sempre fa delle cose. Questa è la mia ambizione e per questa ragione io credo che questi libri, sì, sono diversi. Ci sono cose nuove, ci sono temi evidentemente nuovi, cioè evidente, no? La violenza contro le donne, la giustizia e la legge. Sono temi che non erano presenti nei miei libri precedenti, diciamo sono nuovi, ma allo stesso tempo ci sono temi, cioè io sono chi sono e ci sono temi e ci sono cose che c'erano nei libri precedenti. La riflessione sull'eroismo, che è una riflessione etica, no? Una riflessione morale e tante altre cose. E direbbe specialmente, tu l'hai detto, no? È stato inaspettato, ma il fatto che io scrivesse un giallo, una sorta di giallo. Ma io ho citato tante volte Borges, precisamente, che diceva... Mi stai distruggendo tutte le domande che ti volevo fare, stai facendo tutto tutto. Vabbè, parla tu, figurati io. No, ok, ok, ok. No, 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 no. No, ma volevo parlare del giallo, sì, ma... E infatti, no, facciamo un attimo per chi non avesse presente la cosa. Allora, questa trilogia si incentra sulla figura di Melchor Marin, che è un ragazzo che è cresciuto, diciamo, nei bassi fondi di Barcellona, è stato coinvolto in storie di droga, di bande, è stato in carcere, in carcere incontra un signore che gli fa leggere i miserabili. E da lì lui cambia tutta la sua visione del mondo, e decide, studia, e decide che vuole diventare poliziotto. E infatti lo diventerà. Nel primo libro, Javier ci dice che il famoso poliziotto, famoso in Italia, se lo ricordano un po' meno, ma insomma, quando ci sono stati gli attentati a Barcellona, vi ricordate l'attentato sulla Rambla, non mi ricordo quanti morti ci furono, tantissimi, ma ci fu una sequenza, perché alcuni di quegli attentatori, di quei jihadisti, erano arrivati in un piccolo paesino della costa sotto Barcellona, si chiama Cambrils, armati e quindi convinti di fare una strage lì, e c'è un poliziotto che ne abbatte quattro in pochi secondi. E Javier immagina che questo Melchior Marine sia questo poliziotto, nella realtà poi esiste, ma nessuno sa il suo nome, che viene trasferito nella Terra Alta per stare tranquillo, in sicurezza, eccetera, eccetera. Questo poliziotto ha, incontra una donna, si sposa, ha una figlia, e in questo libro, come dire, nell'ultimo, nel castello di Barba Blu, tutto nasce, diciamo, la miccia, l'innesco di questo libro, è esattamente il rapporto fra lui e questa figlia, perché il libro si svolge nel 2035, già il libro precedente si svolgeva in un futuro abbastanza immediato, questa figlia ha 17 anni e tutto si innesca per un litigio fra la figlia e il padre, perché la figlia è convinta che il padre gli abbia nascosto qualcosa per proteggerla, sì, ma gli abbia nascosto qualcosa di importante nella sua vita, cioè che sua madre è morta non per un incidente, ma per le indagini che stava svolgendo Merchior Marine, questa ragazza va a Mallorca per una vacanza con un'amica e poi non torna, poi sparisce e quindi comincia la ricerca di questa ragazza, ma ovviamente essendo un noir, appunto, non vi posso svelare troppe cose, però appunto c'è chi pensa che tu ti sia limitato e rifugiato in un genere fra diecimila virgolette minore come il noir, ma tu evidentemente non sei di questa opinione, perché stavi citando Borges e quindi... Sì, no, sì sì, l'hai raccontato molto bene. No, sì, cioè, prima di tutto io voglio dire che io non volevo scrivere un giallo, cioè non era la mia intenzione. Io soltanto avevo un giorno questo personaggio, che si chiama Merchior Marine, se mi ha parso, no, diciamo così, è un personaggio pieno di furia, pieno di oscurità, pieno di dolore, pieno di desideri di vendetta, no? Un personaggio che incarna la parte più oscura, di me stesso e di noi tutti, no? Tutti abbiamo questa parte oscura. Quello è stato l'inizio del libro e a un certo punto io ho detto, ho pensato che questo personaggio soltanto poteva essere un poliziotto, no? Cioè è stata una scoperta. Come è stata una scoperta? A un certo punto pensare che questo poliziotto, questo mio poliziotto, a un certo punto ha detto, ah, Merchior Marine è quel poliziotto che tu hai descritto, che è un vero poliziotto che ha fatto, che ha ammazzato questi quadri jihadisti, tutto questo. Nessuno sa chi è questo poliziotto, allora io poteva darle questa identità. Ma io non voleva, io quello che ho voluto sempre, quando scrivo un libro, è scrivere il migliore libro possibile. E devo dire che, sì, una sorta di giallo, ma tutti i miei libri sono gialli. Io ho citato Borges spesso, lui diceva tutti i romanzi sono gialli. Io credo che tutti i miei libri sono gialli e che tutti i libri che io amo, senza dubbio, sono gialli. Infatti, io ho scritto un saggio, tu hai tradotto, il titolo è in punto cieco, che sono una conferenza che ho dato in inglese a Oxford. E l'argomento era, uno degli argomenti era questo, cioè in tutti questi romanzi, in tutti i miei romanzi, in tutti i romanzi che io amo, in tutta la tradizione del romanzo, c'è sempre un enigma e qualcuno che vuole descifrare questo enigma. E questo è l'essenza del genere poliziale, del giallo. È vero che in questi libri, è vero che in questi libri, quest'atmosfera di giallo, diciamo, è più evidente, perché almeno nei due primi, Melcior Marini, il protagonista, è un poliziotto. Allora è un poliziotto che deve risolvere un caso. Allora quest'atmosfera è più evidente, più chiara. Nell'ultimo libro neanche è un poliziotto. Ma tutti, come diceva, tutti i miei libri sono così. E è vero anche, come tu dici, che ancora oggi, incredibilmente, di questo mio accordo, l'ho visto, che ancora c'è gente che pensa che il giallo è un genere minore della letteratura. E non è possibile, parliamo di questo nel viaggio, non è possibile, io credo che non è possibile lottare contro questo pregiudizio. Cioè, i pregiudizi sono pregiudizi, no, bisogna non lottare, perché è inutile, no, è vano. Soltanto si può dire una cosa su questo. Chi pensa che il giallo è un genere minore non sa che cosa è la letteratura. E questa è l'unica risposta. Cioè, perché? Perché in letteratura non esistono i generi minori e maggiori. Questo è così. La storia della letteratura è chiara in questo. Cioè, quello che esistono sono forme maggiori o minori di utilizzare i generi. Cioè, migliori o peggiori di utilizzare i generi. Cioè, non so, la tragedia. Il grande genero classico per Aristotele e tutto questo. Evidentemente ha grandi autori, no? Soffo, Shakespeare, eccetera. Ma ha tantissimi autori che non sono importanti, che sono completamente, giustamente dimenticati, come tantissime opere. Il giallo è la stessa cosa. Evidentemente il giallo ci sono tantissime cose che non hanno, che sono cattive, che non hanno nessun interesse, non letterario. Ma ci sono autori che sono eccellenti, come Edgar Allan Poe, che è un genere molto più giovane, e questo bisogna dirlo. Ha due secoli, infatti, rigorosamente, no? Edgar Allan Poe l'ha inventato, un grande scrittore. E Borges l'ha praticato e Simenon. Oggi pensiamo che Simenon sappiamo che Simenon è un grande autore. E Chascha e gli americani e Channel e tutto questo, no? Allora, questa è la verità. Ci sono due tipi di letteratura, infatti, la buona e la cattiva. Tutto il resto è chiacchierare, tutto il resto è niente. Ma c'è un'altra cosa, ancora peggio, se mi permetti, per finire, che è una delle grandi superstizioni del nostro tempo, letterarie del nostro tempo. e questa idea che dice che questo è il pregiudizio, parte del pregiudizio contro il genere, contro il giallo, credo che il fatto che parte di questa superstizione è quella che dice che la buona letteratura è soltanto la letteratura secreta, minoritaria, quasi di catacombe, no? Questo è una, è ridicolo, questo è una, è una superstizione che ha un secolo un po' di più, ma questo non è stato così, sempre. Cioè, non so, il migliore libro che io conosco, il migliore romanzo che io conosco, incredibilmente scritto per un autore spagnolo che si chiamava Miguel de Cervantes, è El Quixote. E questo libro è stato immensamente popolare alla sua epoca. Tutto il mondo leggeva, tutto il mondo sapeva chi erano Don Quixote e Sancio Manza, anche la gente che non sapeva leggere, come lo stesso Cervantes ricorda, perché si leggeva a voce alta, no? Immensamente popolare. È vero che Cervantes non era un scrittore prestigioso alla sua epoca. Tu mi hai detto, dire tante volte, che Cervantes non avrebbe mai avuto il premio Cervantes, che è il premio più importante, prestigioso, o non senza un grande scandalo, una grande polemica, tutto questo, perché non era prestigioso. La stessa cosa, più o meno, succede ancora peggio con Shakespeare. Shakespeare, oggi sì. i malintesi sono enormi, cioè la gente pensa che Il Quixote è un libro scritto per professori della Sapienza di Roma o dell'Università di Torino. È falso. È un libro popolare, essenziale, fatto per la gente. E ancora è così, questo libro. È la stessa cosa di Shakespeare. Shakespeare non era un scrittore serio nella sua epoca, neanche stato pubblicato con serietà nella sua epoca. Era un autore popolare. I grandi, cioè per Melchior Marini I Miserabili è il suo, più che il suo libro. È il libro fetiche, è il libro essenziale, è il libro che, no, che ha trasformato la sua vita. Questo libro ha stato un successo immenso nella sua epoca. Era il libro che tutto il mondo leggeva. I grandi romanzieri dell'Ottocento, Balzac, Dickens, no, i grandi poeti. Credo che è stato George Steiner era dire che che Lord Byron, è giustissimo, Lord Byron era così celebre, famoso come Paul McCartney oggi. È vero. Cioè, non dico, non sto dicendo che soltanto la letteratura popolare è buona. Questo sarebbe ridicolo, questo è falso. Dico che non è necessariamente cattiva e che il migliore, e questo lo dico anche, che il migliore che può accadere alla letteratura è essere, tornare a essere popolare. dire delle cose importanti, rilevanti alla gente, no? Ma per questo la letteratura deve uscire dalle catacombe, deve uscire di quella letteratura per letterati, deve fare un'altra cosa, deve, no, lottare, no? Io credo che questo è molto, e questo pregiudizio per il giallo è, diciamo che, funziona ancora. forse in Italia meno, non lo sé, ma credo che, e per questo è stata una sorpresa per molta gente questo signore che teoricamente è uno scrittore serio che fa il giallo, no? Ma chi se ne frena finalmente, no? Tanto più che sempre a partire da Cervantes e come tu mi insegni, il romanzo già nasce, come abbiamo detto all'inizio, meticcio, bastardo, incrociando, nel Chichotte ci sono tutti i generi letterari dell'epoca di Cervantes, poi il romanzo è cresciuto inglobando la poesia, la scienza, la storia, il giornalismo, eccetera, eccetera, eccetera. E plebeo, è plebeo, è popolare. Ti dicevo prima in macchina, venendo, che io quando presento i miei libri dico sempre che sono uno scrittore transgender, nel senso che me ne frega assolutamente del genere letterario che mi appiccicano addosso perché ci sono sempre mescolanze, nessun romanzo è puro come non esiste, nessuno di noi puro, per razza o per etnia, siamo tutti molto mescolati e così è anche il romanzo. In tutti questi tre romanzi della trilogia della Terra Alta c'è appunto come dicevi questo questo tema del conflitto fra vendetta e giustizia. Si pongono delle domande a Melchior Marine quando nel primo come dire cerca disperatamente gli assassini della madre che era una prostituta e che viene uccisa nell'esercizio del proprio lavoro insomma e in qualche modo poi scopriremo che Melchior Marine si fa giustizia da sé e la domanda è quando la giustizia non fa giustizia è giusto ricorrere alla vendetta Melchior alla fine lo fa però come dire questa è una cosa che possiamo trasportare anche alla realtà oppure no e qual è il gioco fra letteratura e questo tema fondamentale questo è il tema fondamentale direbbe di questi tre libri cioè tu sai che per me scrivere un romanzo è formulare una domanda complessa della forma più complessa possibile questo scrivere un romanzo e non risponderla o almeno non rispondere questa domanda di una forma chiara univoca tassativa questo non si può fare nel romanzo le nostre risposte le risposte del romanzo sono sempre ambigue contraddittorie poliedrici essenzialmente ironiche cioè la risposta è la stessa ricerca di una risposta la stessa domanda è lo stesso libro allora ogni libro ha una formula una domanda diversa ma questi tre libri per me sono un solo libro cioè la sfida di questi tre libri era scrivere scrivere romanzi autonomi cioè si può leggere il castello del barbablu c'è gente che ha letto il castello del barbablu senza aver letto i precedenti non c'è problema ma che alla fine sia tutto un solo io dico tre libri diversi e un solo romanzo vero è quella la definizione allora sempre la domanda è la stessa e la domanda essenziale è quella che tu hai detto esattamente cioè è legittima la vendetta quando la giustizia non ci fa giustizia è legittimo prendersi non so se si dice così in italiano prendersi la 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 tomarse prendersi la giustizia per la sua mano per mano propria cioè io faccio giustizia senza la giustizia senza i giudici tutto questo è legittimo farsi giustizia da soli è legittimo questo e questa è la domanda che si formula in questi libri e ovviamente tutto il mondo pensa lo stesso che io no? cioè che questo non si può fare no? la civilizzazione consiste a dire che questo non si può fare come dice un poliziotto un vecchio poliziotto a un certo punto dice chi non rispetta le forme della giustizia non rispetta la giustizia tutti siamo d'accordo siamo persone civilizzate tutti siamo d'accordo ma questo succede nella realtà non nella non nella fizione non nella letteratura la letteratura è una cosa diversa per fortuna la letteratura è prima di tutto un piacere come il sesso ma è anche una forma di conoscenza anche come il sesso che è una forma di se stesso degli altri per questo quando qualcuno mi dice che non gli piace leggere l'unica cosa che mi viene voglia è di darle le condoglianze perché è come qualcuno che non gli piace il sesso ma la forma di conoscenza della letteratura non è quella del giornalismo non è quella della scienza non è quella della storia direbbe che è il contrario cioè quello che fa la letteratura quello che fa la fizione in generale è mettere in questione le nostre più radicate certezze fare uscire noi stessi della quello che si chiama oggi zona di comodità come si dice questo tirarci fuori dai nostri dai raghi sarebbe tirarci fuori dai gang ma insomma tirarci fuori come diceva prima dalla nostra zona di comfort di comfort sì no cioè obbligarci a empati empatizzare con con fatti con attitudini con persone con ideologie che non sono che non sono accettabili per noi no e questo che fa la vera letteratura anche far uscire di noi stessi quello che George Vatay George Vatay chiamava il male no o il male cioè quello che diceva Vatay è dentro di noi c'è furia c'è dolore c'è la parte maledetta diceva Vatay c'è dolore c'è furia c'è desiderio di vendetta tutto quello che incarna Melchior Marine tutti abbiamo sperimentato questo la persona che dice che non ha sperimentato l'odio o queste cose non è una o è un bugiardo o è una macchina tutti abbiamo questo e dice Vatay dentro di noi c'è una bestia c'è un animale una bestia fermato come in una carcere se questa porta si apre la bestia esce e la vita sociale diventa impossibile ok la letteratura è il luogo di questo il luogo del male la letteratura è dove può uscire questa questa bestia questa parte male dove ha il suo luogo e quando uno legge i grandi libri cioè non so Riccardo Terz più grande secondo me di Shakespeare mostro della letteratura mostro un uomo orripilante della letteratura universale secondo me ma quando uno legge quest'opera si capisce quest'uomo infatti a volte quest'uomo diventa anche simpatico anche tu sei del suo il suo lato tu sei con lui quando tu leggi eh 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 crimine di castigo eh delitto e castigo di Dostoyevsky tu capisci eh Raskolnikov tu sei con Raskolnikov che ha ammazzato una vecchia quando tu vedi il padrino tu sei con 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 Michael Corleone cioè alla fine del padrino quando lui è alle scale del teatro massimo di 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 Palermo con la sua figlia che l'hanno ammazzato sua figlia in sui bracci la cosa che più amava nel mondo è e tu sei con lui piangi grida tu sei con lui ma questo uomo è un mostro questo uomo ha ammazzato tantissima gente ha ammazzato il suo fratello è questo che fa la vera letteratura a me piacerebbe che il lettore di questi libri eh cioè Melchior Marino è un uomo simpatico per no simpatico per me non è la parola è io sono innamorato di questo uomo questa è la vera parola io voglio che il lettore sia con lui che che celebra le cose che fa ma che allo stesso tempo il lettore dica ma sì ma questo nella vita non si può fare non sai come hai finito tu il libro ma questo libro o il precedente il il l'indipendenza dove dove lui fa delle cose che nella vita reale non si possono fare ma credo che il lettore celebra questo credo che il lettore è contento con lui di fare delle cose delle cose che non sono non sono corrette no e cioè la letteratura dà piacere ma mette a disagio allo stesso tempo ci fa domande che non sono eh gradevole che non sono no eh è questo che secondo me deve fare la letteratura no eh è pericolosa la letteratura sì deve essere pericolosa e per questo è utile no perché ci mette a disagio perché ci fa domande che non vogliamo no ci fa ci obbliga ad andare al di là di noi stessi dei nostri confini morali dei nostri confini politici dei nostri no eh è per questo utile insisto se la letteratura soltanto dice eh questo non si può fare quello non si può fare allora non serve a niente questo è buono alla scuola questo è buono al giornalismo la letteratura no deve mettere a disagio il contrario della pedagogia o della propaganda esattamente il contrario secondo me no ci sarebbe da estendere anche alcune cose recenti su sull'identità sul fatto che appunto quell'autrice che ha rifiutato la traduttrice che non era nera e quindi non poteva tradurre perché anche questo ha a che fare con l'essenza della letteratura se io non riesco a vivere altre vite se non posso farlo la funzione della letteratura finisce è essere capaci di mettersi nella vita di chi fa il male per capire il male magari per combatterlo però assolutamente bisogna farlo assolutamente per questo la letteratura diventa un diposito di esperienza esattamente un'espressione che non è mia Alfonso Reyes è buonissima allora attraverso la letteratura tu puoi essere un cattivo tu puoi vivere le vite che non sono le tue se tu accetta questa limitazione di soltanto sei tu stesso è una vita limitata una vita stretta quello che fa la letteratura è il contrario quello che fa la letteratura ti fa vivere vite che non potresti mai vivere ti fa fare esperienza che è una parola beniaminiana di fare esperienza e quindi e ti rende anche più adatto alla vita comune ci sono tante ricerche di neuroscienze su questo ma volevo tornare a un altro tema fondamentale di tutta la trilogia ma soprattutto del castello di Barbablu è che c'è Merchior Marine che è il protagonista sì però ci sono anche tre grandi figure di donne in questi tre libri c'è la madre di Merchior nel primo c'è la prima compagna la moglie di Merchior nel secondo Olga la bibliotecaria che poi appunto stiamo parlando del castello di Barbablu quindi possiamo dire che in quello precedente lei muore e qui c'è la figlia Cosette lui ha chiamato Cosette proprio perché appunto I Miserabili è più che è un libro che gli è piaciuto è la sua guida nella vita e oltre a queste grandi figure di donna di cui vorrei riparlare però c'è soprattutto anche il problema della violenza sulle donne tutte queste tre donne subiscono delle violenze ed è come dire un tema importante fondamentale ed è un tema che per tanto tempo come dire abbiamo accantonato come se non fosse importante e invece è fondamentale e non è un caso che come dire sia affiorato prepotentemente in questi due tre libri sì questo è uno dei temi che è come quello della giustizia cioè lo scrittore non scrive almeno il romanziere almeno io io non scrivo soltanto con la parte razionale scrivo con la parte razionale e con la parte irrazionale e forse l'irrazionale è molto più importante che il razionale per questo io dico sempre che che il vero diciamo Javier Zercas o il vero Bruno Arpaia è nei suoi romanzi non è qui siamo due impostori ma Bruno Arpaia completo il Javier Zercas completo nei suoi libri perché la parte razionale è la parte irrazionale e la parte razionale a volte è più importante che la razionale con questo voglio dire che è vero che in questi libri ci sono temi nuovi come per esempio questo della giustizia che non era non era prima nei miei libri e il secondo tema o uno uno dei temi essenziali è questo della violenza contro le donne devo dire io non ho andato a cercare questo tema no soltanto ho scoperto a un certo punto che che questo personaggio che è stato l'essenza dei libri che è Melchior Marin ha stato assediato come tu hai raccontato molto bene per la violenza contro le sue donne e e questo è un tema essenziale evidentemente cioè assolutamente essenziale oggi tu hai tradotto un testo che io ho scritto per Roma che mi hanno domandato com'è il nostro tempo eh la domanda più difficile che cosa definisce il nostro tempo no? è molto difficile io dico all'inizio che non so bene ma alla fine parlo della guerra della pandemia e alla fine arriva la conclusione e sono d'accordo con me stesso che il nostro tempo è il tempo delle donne e raramente capita che uno è d'accordo con se stesso almeno per molto tempo ma è così cioè il nostro tempo la grande rivoluzione del nostro tempo è la rivoluzione delle donne è molto semplice cioè dall'inizio del mondo la metà dell'umanità è stata sommessa all'altra metà questo è un fatto non è un'opinione cioè non è un'opinione è un fatto cioè Aristotele un uomo essenziale per la nostra civilizzazione nella politica scrive le donne sono inferiore ai uomini e lo scrive perché tutto il suo tempo lo ha pensato evidentemente e tutti i tempi lo hanno pensato cioè e tutti i grandi filosofi c'era un'evidenza cioè alcuni lo hanno detto cioè alcuni hanno fatto come Nietzsche per esempio siamo a Torino come Schopenhauer tutto il mondo l'ha pensato questo e solo soltanto negli ultimi anni negli ultimi anni è vero che che il femminismo si può ritracciare fino al medievo ma ma solo negli ultimi anni ci abbiamo accolto accolto che che questo non può essere che questa è una cosa molto strana la violenza contro le donne è un risultato di questa disegualanza è un risultato di questo è una forma particolarmente abietta dell'abuso di potere è questo io non so qui in Italia ma in Spagna tu lo sai bene conosci molto bene l'Espagna in Spagna c'è un compito delle donne uccise delle compito 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 delle donne uccise da suoi uomini da sue coppie da venti anni fa prima no prima non esisteva questo problema ma si è molto di più si chiamava crimine passionale che è una cosa anche romantica esisteva assolutamente ma venti anni fa siamo coscienti di questo problema leggeva l'altro giorno un informe della polizia spagnola ogni ora due aggressioni sessuali in Spagna ogni ora in Messico dieci donne uccise ogni giorno è un problema immenso immenso e ci siamo accorti di questo problema la gente dice no oggi sia il problema più duro no oggi il problema è minore perché perché almeno vivevamo con un grande elefante nella nostra casa e non lo sapeva e insisto io non ho andato a cercare questo problema questo tema non so io credo credo che e soltanto si vede chiarissimo in questo libro tutto il mondo dice sono molto contento la gente dice questo terzo volume è il migliore della trilogia sono molto contento perché tutti gli scrittori vogliamo che l'ultimo libro sia il migliore libro ma ma io credo che perché aspetto che sì ma perché perché qui si vede più chiaramente quello che negli altri libri era un po' meno evidente e e questo tema è essenziale ma io non ho andato a cercare credo credo che uno scrittore alla fine è un termometro un termometro del suo tempo cioè gli scrittori non viviamo non siamo extraterrestri siamo persone che viviamo nel mondo e alla fine questi problemi arrivano ai nostri libri senza che noi andiamo a cercare io non volevo parlare di questo io mi ho trovato con questo io non volevo parlare della giustizia là io mi ho trovato con questo gli scrittori lavoriamo con ossessioni è questo quello che è essenziale per noi credo tanto per venire ancora ai temi ce n'è un altro che forse è più legato ai romanzi precedenti è che è il tema del potere nel libro precedente Indipendenza parli di un ricatto sessuale alla sindaca di Barcellona e di un certo ambiente attorno politico che come dire usa questo potere in maniera molto spregiudicata e in questo libro c'è un potere economico di un predatore sessuale ma in tutti e due poi questo potere si trasforma in una sorta di sensazione di impunità questo è un altro tema forte di questi libri che sono libri io non ho paura a dirlo ma saranno noir giallo sono libri molto politici nel senso alto e nobile del termine e non soltanto perché si occupano di potere evidentemente però questo è un tema importante mi pare sì forse non so se sei d'accordo forse il più cioè io non credo molto ai romanzi essenzialmente politici ma credo a romanzi che hanno una dimensione politica credo che credo che siamo d'accordo credo che forse il più evidentemente politico era il precedente l'indipendenza questo è anche un libro politico e sul tutto e sul tutto è vero che parla di questa impunità del potere dei soldi che è un tema eterno cioè questo è successo sempre no? la gente ricca la gente del potere con questo si conquista l'impunità c'è un personaggio nel libro che è l'incarnazione per me dell'integrità personale paga un prezzo per questa integrità altissimo come sempre che dice a un certo punto diciamo più o meno la qualità di una democrazia si misura per la per l'impunità che accetta cioè se meno impunità migliore è la democrazia no? maggiore impunità peggiora è la democrazia sono assolutamente d'accordo cioè questo si è scritto sempre l'hai scritto tu l'hai scritto tu no ma ma non sempre no certo scherzavo no no ma non sempre perché spesso non si è d'accordo con quello che scrivono i personaggi se no ma tu lo sai non sempre sei d'accordo con quello quello che dicono i personaggi la gente si sbaglia con questo non è quello che dice l'autore certo in questo caso sì ma no a volte no un personaggio dice una cosa e no io non penso la stessa cosa lo dice il personaggio ma ma un po' così cioè questo si è scritto sempre no a me i soldi piacciono moltissimo come tutto il mondo no ma con i soldi se tutto ha un effetto secondario in questa vita ma con i soldi se si conquista questa si compra questa impunità negli ultimi anni ancora negli ultimi anni abbiamo inventato questa cosa che si chiama democrazia che è un strumento per lottare con questa impunità è vero che non si finisce mai con l'impunità perché non esiste la democrazia perfetta ovviamente la democrazia perfetta non esiste la democrazia perfetta è una dittatura la dittatura di Franco si chiamava a se stessa democrazia era perfetta non si poteva modificare ma è vero che questi libri che in questi libri c'è un direbbe come una chiamata alla ribellione contro il potere no io credo che sempre la letteratura è una chiamata e in particolare il romanzo è una chiamata contro il potere quello che dice la letteratura è il mondo non è bien fatto e il mondo non va bene il mondo non ci piace scriviamo dei romanzi leggiamo dei romanzi perché non ci piace perché vogliamo un'altra vita un altro mondo e questo e questi romanzi in questi romanzi questa chiamata la ribellione è molto visibile ma secondo me tutti i grandi romanzi fanno questo e questa è l'essenza del romanzo in certo senso è molto curioso che alcuni dei grandi dei più grandi romanzi parlano di questo il più grande che è Don Quixote parla di questo cioè Don Quixote che non si chiama Don Quixote si chiama Alonso Guijano El Bueno si chiamava questo è il suo nome vero è un uomo che ha passato la vita a leggere a immaginare a leggere dei romanzi e che a un certo punto dice stop finito voglio vivere voglio vivere quello che sto leggendo voglio essere un vero eroe si ribella contro la sua vita e cerca e inventa un personaggio che si chiama Don Quixote della Mancia un grande eroe per vivere quelle vite che voleva che prima soltanto aveva sognato Madame Bovary la stessa cosa una piccola donna di provincia che legge grandi romanzi romantici e che immagina essere una una eroina romantica e che a un certo punto dice stop io voglio essere davvero una 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 eroina davvero voglio voglio avere amanti voglio avere soldi voglio andare no e così cioè la letteratura è questo cioè il romanzo è questo una chiamata alla ribellione a vivere all'avventura più pericolosa che vivere una vita piena una vita davvero una vita come tu l'hai sognato come tu l'hai immaginato e per questa ragione il potere sempre ha paura della letteratura sempre perché quello che vuole il potere sono cittadini eh obbedienti si dice obbedienti cittadini che non dico che dicono sì e che non dicono no come Madame Bovary come Don Quixote come no eh eh sì è così cioè per questo Platon ha cacciato fuori i poeti della sua repubblica ideale perché erano pericolosi perché raccontavano menzogne la letteratura la fizione non è i romanzi non sono esattamente menzogne ma si assomigliano molto alla fizione c'è una cosa molto bella eh Bruno una cosa molto bella in latino la parola mentiri vuol dire allo stesso tempo menti e cioè dire bugie e inventare questo è molto bello è molto interessante c'è un verso di eh Orazio che dice che parla di eh Omero e dice ad quaita mentitur sigueris falsa reminisca cioè è così mente o così inventa mescolando il vero con il falso lì è tutto in questo in questo verso no? e e attraverso queste menzogne per questo ma ma la paradosa è che attraverso queste menzogne si arriva a una verità completamente cioè diversa unica attraverso soltanto si può arrivare attraverso questa menzogna si può arrivare una verità essenziale un'altra verità questo che Bargas Giossi chiamava la verità delle menzogne no? ma è sempre pericolosa la letteratura è sempre io non so come non l'hanno l'hanno proibito magari l'ha proibito se si venderebbe di più perché le cose proibite alla fine perché è pericolosa perché è pericolosa c'è un'altra cosa per il potere è pericolosa c'è un'altra cosa che secondo me è pericolosa per il potere è la complessità della letteratura in tempi di semplificazioni la letteratura come dicevi tu prima fa una domanda complessa nel modo sempre più complesso non dà risposte univoche e nel caso di questa trilogia anche tu accennavi prima Melchior Marin è un uomo pieno di furia di rabbia di desiderio di vendetta ma è anche una persona piena di luce con tutte le sue sfumature non si può dividere in bianco e nero e c'è un altro ci sono tante cose in questi libri che confermano questa necessità di complessità perché il mondo è complesso e dobbiamo imparare a pensarlo in maniera complessa c'è un'altra cosa però che in questo ultimo libro nel Casario Blu è addirittura come dicevo prima la miccia l'innesco del romanzo è questo rapporto complesso fra padre e figlia fra genitori e figli tu ieri dicevi è questo rapporto è sempre una tragedia sono d'accordo un'altra volta con me stesso ma sono d'accordo con quello che hai detto la letteratura si rifiuta alla semplificazione per questo non è propaganda per questo non è pedagogia sempre va al di là sempre mostra che siamo tu l'hai detto molto bene Melchior Marine qualcuno ha detto che Melchior Marine era un uomo un buon cattivo poliziotto mi piace molto questo perché così come Don Quixote era un lucido pazzo due cose allo stesso tempo perché gli uomini siamo capaci del peggiore del migliore e Melchior Marine ha questa zona di luce ha questa zona di ombra che ho di cui ho parlato esce di questa zona di ombra che è molto visibile molto evidente nei due soprattutto nel primo libro nel secondo anche ma non so che cosa pensi tu io credo che in questo terzo libro che è un libro che ha delle zone dure oscure alla fine è un libro luminoso il più luminoso di tutti i tre senza dubbio è dove la la parte luminosa del personaggio e tutta quella gente che è lì è molto evidente no? c'è c'è una speranza veramente la fine è un fine di speranza non so di dove è uscita questa speranza ma è così e sì quello che tu dici delle relazioni ieri parlavamo della relazione fra padri e figli è un esempio perfetto della complessità con cui si deve vivere perché vivere non è la vita non è semplice è complessa e questo è un esempio effettivamente il detonante del romanzo è questo tu l'hai raccontato all'inizio Cosette scopre che il suo padre l'ha ingagnato non ha detto la verità su un tema essenziale e qui inizia la la relazione fra padri e figli sono lo dice qualche personaggio credo nel romanzo dice sono sempre tragiche o almeno hanno una componente tragica ma se ma dobbiamo capire che cosa è una tragedia una tragedia è una io dico una tragedia è una lotta un conflitto in cui le due parti del conflitto hanno ragione questa è una tragedia e la relazione fra padri e figli è un esempio perfetto perché i padri i genitori hanno ragione di voler proteggere i suoi figli perché sono bambini perché non no e i bambini i figli hanno ragione di voler essere lei stessa voler indipendizzarsi di genitori tutti i due hanno ragione cioè è quello che succede esattamente nel libro cioè Melchior ha voluto nascondere la realtà della morte della la realtà terribile della morte di come è stata uccisa la sua madre la madre di Cosette e lui ha ragione di proteggere la sua figlia che è una piccola bambina di questo fatto terribile ma Cosette quando scopre la realtà ha ragione di incazzarsi con il suo padre perché ha nascosto un fatto essenziale della sua vita tutti i due hanno ragione e il conflitto è inevitabile forse la storia di questo romanzo è come si gestisse questo conflitto in fondo perché alla fine Cosette credo che capisce il suo padre e il suo padre alla fine capisce Cosette ma si deve vivere nella complessità cioè la vita è così chi dica il contrario non dice la verità voglio farti altre due domande pochino non so se magari c'è qualche domanda dal pubblico non tantissimo perché non c'è tantissimo tempo però la prima questi libri sono e soprattutto questo sono ambientati nel futuro è un futuro che non è molto diverso diciamo dal presente però comunque è un futuro e questo mi sa che è un'apertura anche rispetto a quello che dicevo proprio all'inizio all'inizio tu avevi scoperto con Soldati di Salamina che il passato è una dimensione del presente adesso ti proietti addirittura nel futuro sì il passato era una dimensione del presente senza cui il presente era mutilato è questo che domina questa visione che domina nei libri precedenti cioè questi libri erano una battaglia contro la dittatura del presente questa idea che il presente è soltanto oggi questo momento questa la nostra la visione del mondo del nostro tempo il passato non esiste non è rilevante allora quelli 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 libri volevano prendere il passato e mostrare che il passato è qui passato come dimensione del presente senza cui il presente è mutilato questi libri di una per caso ho scoperto in questi libri che il futuro anche una dimensione del presente senza cui il presente è mutilato perché la forma in cui noi immaginiamo il futuro dice tantissimo della forma in cui viviamo il presente questo credo un'intuizione di questo tipo la San Agustin nelle confessioni parla di questa paradossale convivenza del futuro e del passato nel presente no? le due cose vivono nel presente e penso nell'inizio dei pass il tempo passato e il tempo futuro time present and time past are both perhaps present in time future and time future contained in time past if all time is unreadimable all time is present questo è l'inizio dei quattro quartetti di T.S. Eliot e credo che T.S. Eliot pensa a San Agustino e che quello è esattamente quello che dice Eliot soltanto esiste il tempo presente bellissimo inizio del poema allora sì ma questa cioè è vero che questi libri sono particolari per caso per caso perché io non ho andato a cercare questo mi ho trovato questi libri sono situati nel futuro prossimo io non conosco un libro che l'ha fatto questo non è un'originalità che io ho andato a cercare e così non conosco un libro situato in un futuro prossimo immediato ma un futuro che non è un futuro diverso del nostro presente cioè diciamo apparentemente non ci sono extraterrestri non c'è la fine del mondo non c'è una distopia è un futuro come il nostro ma questo è stato il caso perché 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 io avevo un fatto storico che io non poteva muovere che era che era quel attentato jihadista del 2000 dell'agosto 2017 e allora mi ho visto obbligato a andare via nel tempo e questo libro finisce nel 2035 ma l'anteriore è nel 2025 è stato il caso le cose più importanti che succedono nella letteratura le grandi scoperte per me sono sempre per caso bisogna essere attento all'azzardo infine l'ultima domanda è il ruolo dell'ironia nei tuoi libri che nessuno te la fa mai però io sono rimasto come dire dai tempi di soldati di Salamina mi folgorò la pitonisa quella diciamo la la compagna del personaggio Javier Serkas e qua mi fanno morire insomma tutti i tuoi guizi di ironia e anche strizzate d'occhio al lettore perché appunto Melchior Marino ogni tanto intanto che tutti questi eventi si svolgono sono usciti libri di un tale Javier Serkas che raccontano queste cose e Melchior Marino si rifiuta sistematicamente di leggerli e poi coinvolge un amico come Hector Abad lo mette nella trama Hector Abad è un grande scrittore colombiano se non l'avete letto se lo trovate in giro ancora leggete L'obbligo che saremo un libro meraviglioso e la gente parla di Javier Serkas parla male parla molto male questo Javier Serkas inventa tutto la parte più bella del libro quella quando ti danno addosso e anche c'è un personaggio che vuole gli dice a Melchior che perché non lo manda in giudizio a Javier Serkas perché non lo denuncia lo guereva certo questo un'altra volta è la necessità cioè il caso e la necessità mi era sembrato necessario fare questo perché ovviamente ovviamente cioè il libro si è pubblicato 2019 Terra Alta e il secondo 2025 il primo libro è stato molto letto perché ha guadagnato il primo planeta più popolare perché i miei libri hanno lettori in Spagna e tutto questo e soprattutto si è letto nella comarca della zona della Terra Alta che la Terra Alta è un luogo vero che esiste davvero allora in questo in quel luogo si è letto e tutto il mondo le domanda la gente alcuni lettori dicono a Melchior tu hai letto questo libro e Melchior no non l'ha letto perché soltanto leggi libri dell'ottocento perché per diverse ragioni ok allora tutto il mondo parla era logico che questo questo succedesse ma sai Bruno tu lo sai per me non esiste il romanzo almeno forse la poesia sì ma il romanzo non esiste senza umore o almeno senza ironie l'ironia è un strumento e l'umore è un strumento di conoscenza io non conosco una cosa più seria che ridere questo non l'ha insegnato Cervantes ma abbiamo dimenticato completamente e questo è così e per ridere bisogna ridere di se stesso se tu non ridi di te stesso non hai dritto di ridere di nessuno secondo me questo è così è un strumento di conoscenza è un'attitudine morale no allora io non posso capire un romanzo senza senza ironia senza senza umore senza umore senza ironia perché l'ironia esiste un strumento di conoscenza quello che dice l'ironia l'ironia è essenzialmente contraddittoria quello che dice l'ironia è che Don Quixote è eroico ma è anche ridicolo che è pazzo ma che è ma che è lucido e questa questa è l'ironia e questo è un strumento di conoscenza è un strumento di tolleranza allora è la grande è una delle grandi rivoluzioni che ha fatto Cervantes è tutto il romanzo per me il romanzo è è la stessa cosa che l'ironia non è possibile il romanzo senza ironia e senza né senza umore senza senso dell'umore è un strumento